Il Brindisi è un porto molto infrastrutturato e ha anche un raccordo ferroviario, un raccordo ferroviario che viene operato da Mercitalia. Questo raccordo ferroviario che è operativo, anche se è poco impegnato nel ciclo nave purtroppo, almeno fino a questo momento, ha rappresentato finora per gli operatori portuali più un intralcio che un vantaggio, in quanto ha in qualche misura interrotto l'operatività della banchina, ha separato pezzi di banchina determinando maggiori costi, maggiori oneri o comunque un rallentamento delle operazioni portuali. Per cui da tempo gli operatori chiedevano di realizzare degli attraversamenti, attraversamenti che devono essere realizzati a regola d'arte, devono essere validati chiaramente dalle autorità competenti e hanno un costo significativo anche perché devono avere la portanza adeguata ai mezzi che operano in porto, che possono pesare diverse tonnellate. Il costo di adeguamento per la realizzazione di questi attraversamenti sfiora quasi il milione di euro, credo siano quasi 900 mila euro sostanzialmente. Quest'opera è stata realizzata, abbiamo completato un altro tassello nel senso di rendere il porto più attrattivo e abbiamo depennato dall'elenco che ci hanno fatto gli operatori una delle loro principali richieste che noi totalmente condividevamo.